Un concorso di giovani abbiamo visto Tiziano che cantava una canzone improponibile però aveva una timbrica così affascinante, così bella, così particolare aveva 18 anni, per cui pensa a te quanti anni fa e devo dire ci siamo gasati tantissimo l'abbiamo rincorso, gli abbiamo fatto la proposta di firmare con noi lui l'ha fatto e abbiamo fatto i primi tre dischi devo dire il primo e il secondo sono in assoluto quelli che ho trovato più rivoluzionari perché era un periodo che nel mondo c'era questa comunicazione musicale e vocale che era in linea perfetta e dopo il terzo disco io sono stata personalmente meno in linea con lui che è diventato un po' più tradizionale E vi sentite ancora con Tiziano? No, non tanto perché poi adesso lui vive negli Stati Uniti ha fatto la sua vita là, ha fatto tutto quello che voleva fare Ok Ok